L'Associazione Fibromialgia Italia, di cui Antonella Moretto è presidente, propone due importanti appuntamenti nel 2021 per parlare di fibromialgia a 360 gradi. Qual è l'obiettivo di questa iniziativa? L'obiettivo è di entrare in modo capillare a livello comunicativo nella cittadinanza marchigiana e quindi portare sempre più la conoscenza della fibromialgia non solo a livello sanitario ma anche sociale, politico e dentro le famiglie perché è molto molto importante che anche i familiari comincino a capire il disagio che sta passando e sta provando il loro familiare stesso. A livello di numeri di che percentuale parliamo? Ad oggi si parla del 2-2,2% della popolazione nazionale che però comunque sia di riflesso anche nelle popolazioni regionali. Nel 2019 è stato istituito un registro nazionale in collaborazione con il Ministero proprio per avere un'epidemiologia più corretta. Grazie. 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 Grazie.